Forse l'Aquila è stata una macchina di solidarietà, non solidarietà, ma mondiale. Quello che ho visto in Aquila penso che non è esistito mai a nessuna parte. Quando si parla del miracolo aquilano bisogna vedere di che cosa si tratta. Questa frase, questa famosa frase, se si riferiva a l'Aquila sarà ricostruita in cinque anni come miracolo aquilano, allora si può dire che non è avvenuto così, però attenzione, chi ha detto questo non sta al governo da tanti anni. Questo anche bisogna sottolinearlo. Se invece per miracolo aquilano si intende a un movimento mondiale, cioè a un nuovo verso di tutto il mondo, i capi di Stato, ma per non dire l'Italia, cioè neanche il piccolo villaggio italiano della Sicilia, del Palermo è arrivato qui. Cioè questo non si può dire che non sia un miracolo questo.